oggi vediamo le cinque cose più una da fare subito se si vuole iniziare a fare un'analisi di portafoglio titolo in questo ultimo periodo molti clienti delle banche si lamentano il performance molto basso addirittura catastrofali degli investimenti fatti tutti si domandano se è possibile analizzare ciò che è accaduto per capire se ci sono delle responsabilità o se è stato fatto qualcosa in malo modo la risposta a questa domanda è sì a una condizione che si crei un perimetro di informazioni corretto adesso vediamo qual è questo perimetro come farlo a produrre da soli il percorso che andremo a seguire è un percorso che parte ovviamente dalla richiesta documenti in base al testo unico della finanza l'articolo 28 al comma 5 permette di richiedere tutta la documentazione in mano alla banca la sima finanziaria e questa documentazione deve essere consegnata al cliente al legale del cliente con questa documentazione ovviamente dovremmo fare una richiesta specifica le domande le documenti che dobbiamo chiedere devono essere circostanziati ed ecco che elenchiamo quali devono essere inseriti nella richiesta per prima cosa fondamentale chiedere il questionario MIFID la prima sottoscrizione cioè quando il cliente è diventato appunto cliente della banca e poi tutte le modifiche nel caso in cui ce ne siano state delle relazioni diverse o delle sottoscrizioni per mutate condizioni fatto ciò andremo a richiedere un altro gruppo di documenti molto molto importanti che sono gli stati conto titoli e il stato conto di conto corrente perché lo facciamo perché bisogna avere un quadro completo di tutto il denaro che è giunto nella banca e di tutto il denaro che è stato utilizzato per fare gli investimenti fatto questo ovviamente dovremmo anche chiedere il contratto quadro il contratto quadro sia nella versione originale sia nelle modifiche successive ci permetterà di capire quali erano le regole diciamo di ingaggio nel rapporto tra la banca il cliente l'esecuzione ordini in particolare il la comunicazione di tutti gli eseguiti la comunicazione documentale e le commissioni fatto questo andremo anche a vedere in ultima analisi l'elenco ordine impartiti e soprattutto l'elenco degli eseguiti in questa maniera dopo che avremo capito quanto denaro è entrato nel rapporto di conto corrente quanto denaro è stato utilizzato per fare gli investimenti andremo anche a vedere esattamente i momenti e su che cosa è stata investita. sono state investite le somme quando e se riceveremo tutta questa documentazione finalmente saremo pronti l'analisi di un portafoglio titoli nella qualità e nella consistenza delle azioni compiute dalla banca è diversa di caso in caso in linea generale si andranno comunque ad analizzare sempre tre specifiche questioni la prima è la verifica del profilo di rischio la banca quando fa l'analisi MIFID deve dire secondo lei che rischio può sopportare il cliente questo è importante perché bisogna verificare che la banca abbia catalogato correttamente il cliente al suo profilo di rischio e non ci siano stati degli errori errori che poi si ripercuotono sui titoli comprati la seconda verifica è il profilo di rischio degli strumenti se si conosce il profilo di rischio del cliente bisogna abbinare correttamente il profilo di rischio degli strumenti non possono essere presi delle operazioni più pericolosa del profilo che ha il cliente il profilo corretto terzo ed ultimo verificare la durata delle operazioni molti clienti hanno un profilo di rischio preciso ma hanno anche una durata dei propri investimenti specifica alcune operazioni non sono assolutamente in linea con il tempo desiderato dal cliente queste tre analisi permettono di capire in linea generale se il comportamento della banca del promotore o del consulente è stato fatto correttamente su qualunque altra questione gli approfondimenti sono molto più grandi se avete dei dubbi se le banche non rispondono scriveteci alla nostra mail info-outraversitalia.it e iscrivetevi al nostro canale youtube alla prossima grazie grazie grazie